According to YouTube statistics, only a small percentage of people who watch my videos or actually subscribe. So, if you had a break in this video, consider subscribing. It's free and you can always unsubscribe. Enjoy the video! Oh meraviglioso. Giappone, Ucraina, Polonia. Questa sembra essere la parola più internazionale che abbiamo avuto fino ad oggi. Madre mia. Continua per favore. Continua. Cardo. Card. Card. Cate. Germania. Questa volta non sbaglierai, vero? Letteralmente metà del pianeta è d'accordo su questa parola. Well, not really half the planet. What do you mean? You don't call it card in the UK? Oh yeah. I do. But Spain doesn't. Spain? How do you know that? Because I regularly talk to a bunch of Spanish native speakers on Busuu. I competed a lesson to learn how to pay when I'm traveling, and then I practiced the dialogues with natives, right Mexico? Correcto, güey. Estamos praticando todos los dias. Oh wow. I want to practice languages with native speakers too. You said, Busuu? Exactly, Busuu. Click the link in the description and try it. Of course. I'm gonna download it right now. Oh, miracolo a te. Alemania va a hablar. No, per favore. Oh no, carte. Oh, meraviglioso. Anche la giornalia è da fuori. Che giornata fantastica. Le dobbiamo più. Yeah, tante, tante, anche, anche. Spagna. È tutto a posto? Non hai partecipato oggi? Eh, eh. Non voglio estropeare l'estate d'animo. Eh dai. Non può essere così diverso. Io e te siamo sempre molto simili. Come lo dici? Cartita? Carton? Realmente no. Io lo llamo. TAR. Santa Madonna. Che cosa sta succedendo? Por eso no pronunce la foto así. Oh my goodness. Und, ja, weiter d'etro. L'ideos. ETA! Oh, bitte. Hör nicht auf. Ich will mehr. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. 裴, ja. A una недora. Ja. Così...